Allora, che cosa stiamo facendo qua con tutti questi bambini all'ottica e il punto di vista di Milano? Salve, stiamo cercando il volto di un bambino, una bambina tra i 3 e i 12 anni che saranno i testimonial della nuova campagna di Allero Design Kids che è il nuovo occhiale in gomma che verrà presentato al Mido durante la fiera internazionale dell'occhialeria che è il Mido 2013 agli inizi di marzo e quindi i due protagonisti scelti saranno i testimoniali della campagna pubblicitaria e di questo nuovo concetto di occhiali in gomma. E' un prodotto pensato per i più piccoli, che tipo di caratteristiche ha? Innanzitutto è indistruttibile, è un vantaggio per la mamma e il papà diciamo e quindi è molto adatto ai bambini perché giocando oppure facendo attività sportiva o quant'altro non hanno problemi nel cadere o cimentarsi nel modo più naturale possibile nei giochi quindi l'abbiamo pensato proprio per questo, per concedere al bambino ancora più libertà di espressione e molti bambini avendo problemi di vista avevano serie difficoltà in questo per cui è un occhiale che può essere convertito anche ad occhiale da vista. Faccio un po' l'avvocato del diavolo, essendo la montatura in gomma preclude l'utilizzo magari di lenti più di alto livello o si possono mettere qualsiasi tipo di lente per qualsiasi tipo di problema? Si può usare qualsiasi tipo di lente perché la montatura è stata studiata apposta per soddisfare tutte le caratteristiche o migliorare tutti i difetti che un bambino può avere. Andiamo più nel design di questo occhiale che tipo di differenze ci sono dal ormai classico e famoso occhiale Lero Design che ha fatto scalpore anche a pitti uomo e questo prodotto è dedicato invece ai più piccoli che tipo di caratteristiche differenti ha? Lo avete studiato? L'abbiamo studiato appunto, come dicevo prima per donare più libertà proprio di espressione al bambino e per non far sentire il bambino che ha qualche problema di vista far vivere questo problema non come un problema ma in realtà come un gioco perché infatti con la caratteristica che mantiene la loro design kids è l'intercambiabilità della montatura per cui si può giocare con il colore, con la leggerezza e con quant'altro quindi diventa una specie di gioco cambiarsi la montatura, poter giocare tranquillamente con gli occhiali indosso e quant'altro e poi è stata studiata una forma del packaging molto adatta alle caratteristiche del bambino perché è molto simpatica, colorata, con tutte le sacchette e pezzolina colorata per ogni pack quindi è su misura per ogni bambino Grazie mille Prego